ed ecco qui, questa è la vita di un brevetto, che nel caso di un brevetto per invenzione sono 20 anni dal deposito, molto spesso deposito rilascio termine della protezione, dopo questa data, 20 anni dal deposito, l'invenzione è in pubblico dominio, tutti la possono utilizzare, naturalmente è possibile abbandonare l'invenzione in qualunque momento, il periodo più importante in realtà è quello che segue il rilascio, perché se un brevetto arriva in quelle condizioni vuole dire che evidentemente è importante che difenda qualcosa, perché visto che ci sono delle tasse di mantenimento, queste tasse in qualche modo devono scontare la presenza di qualcosa che in realtà viene messo sul mercato, non è che ho pubblicato una mia considerazione o una mia ipotesi scientifica, ho protetto una mia realizzazione tecnologica che parte da un'invenzione e poi arriva a un prodotto che vendo o a un procedimento che vendo.